e ragazzi se avessi come si dice mille euro per ogni volta che qualcuno mi scrive mi dice franco nella mia zona non ci sono operazioni franco non trovo operazioni franco il problema sono le operazioni franco non è il momento franco veramente io ho cercato di tutto ma non c'è niente come faccio come è possibile cambio zona mi sposto di zona allora partiamo da una premessa logica se operi in un paesino di quattro anime è ovvio che qui il problema è facile da risolvere disposti ma se operi in una città o almeno in una zona con più di 50 60 70 mila abitanti ci vuole un corso di formazione per per non vedere gli affari probabilmente ti mancano delle caratteristiche c'è il tuo occhio non riconosce determinate situazioni ma non ti voglio parlare di questo io voglio risolvere il problema anche a coloro che hanno il prosciutto negli occhi che purtroppo non vedono perché per potervi fare vedere determinate cose ovvio che bisogna fare un video molto più particolare qui io ti do una furbizia una malizia ti faccio riflettere ti faccio capire come si può arrivare a valutare centinaia di affari andando ad aprirsi un po' mentalmente e operando in un largo raggio d'azione cosa significa che oggi tu grazie alla rete puoi selezionare un affare immobiliare di npl di stralcio immobiliare di asta immobiliare anche poi le aste si può partecipare in maniera telematica o di asta para giudiziaria tutto quello che vuoi basta avere un computer un google maps è una situazione che ora ti vado a spiegare tu nella tua zona dici che trovi poche posizioni il problema potrebbe essere il budget perché magari hai un budget piccolo quindi ne trovi poche ma il budget l'abbiamo risolto no magari ti sei candidato per il mastermind fra 30 giorni il problema base sarà risolto te lo prometto te lo garantisco ma non ti dici ma perché lo dici perché le faccio queste cose cioè non ti insegno cose che non faccio se apro un mastermind entrano 100 persone l'asta senza gara l'ho proposta io sono 150 o abbiamo radunato 150 investitori addirittura a me pagano perché noi diamo anche formazione però tu diciamo che non adesso non ti voglio complicare la vita non devi fare formazione ma vuoi dire che gratuitamente non riesci a coinvolgere degli investitori attenzione gratuitamente ma con delle strategie altrimenti ti prendi soltanto delle richieste di info e nessuno poi ti dà un euro perché poi la società torna al video di prima deve essere organizzata ci devono essere dei patti chiari deve essere tutto costruito da te e noi stiamo parlando di associazioni in partecipazione stiamo parlando di cose molto più semplici logiche per il piccolo investitore che vuole valutare operazioni magari da fino più operazioni per un compravenduto di un milione di euro quindi possono essere anche dieci operazioni da 70 80 mila o cinque operazioni da 200 mila però l'importante è che io mi preoccupo per te che tu devi avere costanza di rendimento costanza di rendimento non mi puoi aspettare un anno prima di fare la seconda oppure nel frattempo dici ma sai studi i tuoi corsi franco ho capito ma i corsi magari dopo un anno non hanno più valore perché le regole cambiano cosa ne sappiamo noi non puoi aspettare il il tempo è tutto se ti vuoi arricchire non puoi farlo in 25 anni le guadagni lo stesso magari 500 mila euro in 15 anni lavorando come dipendente altro discorso è guadagnarli in in 12 24 mesi quindi detto che il problema del budget lo risolviamo quindi avrai già subito matematicamente fra 30 giorni un sacco di affari da valutare in più perché hai gli investitori che ti danno anche coraggio non dici cazzo non posso deluderli perché se li deludo poi magari vado a scemare quando concludo la prima operazione farò vedere chiederò la testimonianza qui sto andando un po troppo avanti no e dopo che hai chiesto la prima testimonianza con le strategie che ti insegno io si picchiano per darti i soldi perché ricordati la gente vuole fare soldi senza fare niente per fortuna che trovano gente onesta perché se trovassero un truffatore gli porterebbe via le mutande perché siamo fatti così vogliamo guadagnare risparmiando tempo senza fare una mazza e su questo andiamo a lavorare ovviamente noi in maniera etica e legale stessa cosa è limitarsi a una città se tu mi operi su genova per dire è ovvio che sei un po limitato perché con tutte le competenze che hai i milioni di euro che ti danno gli investitori ti vuoi limitare dico io a trattare solo la tua città perché non è detto che magari tutto quello che cerchi sia disponibile questo mese magari c'è il prossimo e cosa fai ti vai a vedere le altre città tu mi dici ma cosa vado a studiarmi le zone delle altre città poi devo andarci io bravo è un'ottima domanda questa infatti non funziona così tu devi lavorare prima nel catturare l'attenzione di investitori che hanno una certa esperienza in una determinata nicchia investitori normalissimi dove devi creare una collaborazione una collaborazione molto molto logica nel senso che tu riesci a trovare un investitore di milano e tu sei di roma creando una collaborazione con questo investitore a milano dove in sintesi gli accordi sono questi io ti posso proporre tu che sei milanese io sono di roma io di roma ti posso proporre un affare a milano ce lo trovo io l'affare a milano non ti preoccupare io sono bravo tu devi soltanto fare questo devi andare a vedere l'immobile in quel caso se fosse un saldo e stralcio prendere la delega oppure se fosse un mpn andare a vedere solo il sottostante è una stronzata e mi devi dare poi una stima una valutazione di mercato attendibile perché quello che manca a noi con la distanza e la conoscenza del territorio non abbiamo non pecchiamo in conoscenza di tecniche non pecchiamo in obiettivi di denaro perché ce l'abbiamo gli investitori però siamo ciechi che ne sappiamo noi in quell'appartamento lì quanto vale magari vale x ma non abbiamo la possibilità ci vuole una persona del posto che ci che sia ai nostri occhi e se questa persona poi coincide anche addirittura con un opinion leader quindi un mediatore che è anche investitore siamo a posto quindi tu gli trovi l'affare gli mandi una dichiarazione di riservatezza l'affare tuo e cosa fate poi tu puoi dirgli ce lo facciamo al 50 per cento te lo vuoi fare al 30 te lo vuoi fare al 70 in modo tale che lo coinvolgi nell'operazione se ad esempio lui ha il budget impegnato potrà prendere comunque un compenso dalla tua plusvalenza scrivete tutto e viceversa cioè lui potrà fare lo stesso con te quindi lui ti dirà vami a vedere l'appartamento nella tua zona ti ha trovato lui la notizia vai tu e lui per poi collaborerà al contrario con te ecco se tu acquisisci le competenze giuste anche in questo caso zero per zero non succede niente rimani al palo non ti preoccupare non perdi soldi ma a fare azione nel lavorare nel trovare un investitore per ogni città importante ok non piccola diventa un grande obiettivo per te perché una volta trovato uno su milano uno su roma uno su napoli dove vuoi te ovviamente ci vorranno un po di mesi ma per trovare il primo insomma ce la fai quasi subito scegli il primo una zona ti levi il problema convenzione poi va col secondo poi va col terzo poi va col quarto quando tu operi così perché poi attento qui non stiamo dicendo tu trovami l'affare e poi guadagniamo e dividiamo tu sei scemo scusa mi stai chiamando di trovare l'affare devo anche devo anche dividere con te sei tu che con la tua attività di scouting quando la tua zona non trova non trovi niente perché in quel momento lì è finito tutto tu quel giorno lì vai a trovare anche qualcosa su milano con calma ti senti col collega se tipo questa via qui cosa ne dici no non lascia perdere non c'andare in questa via va in questa via qua questa qui va bene ho trovato un affare una posizione di npl o uno stagio o un'asta ok andiamo avanti ovvio che devi prendere prima dei patti chiari senza soldi nel senso che non ti costa niente prendere questa stretta di mano virtuale scriverete soltanto dopo quando tu gli dirai senti ho trovato la posizione o la delega oppure vai a prendere la delega ho comprato il titolo firmiamo degli accordi preliminari ce lo compriamo io e te oppure anche qui non dovrei dirlo vabbè quando tu gli dici senti carmelo io quest'operazione qua io in questo momento ho soltanto 20 mila euro e tu ne hai 20 mi hai detto ma noi abbiamo dietro io dietro 700 mila euro di investitori quindi in questo caso la facciamo comparare agli altri guadagniamo comunque lo stesso come compenso segnalazione perché anche l'investitore giustamente non fa niente tu puoi prendere dei compensi su quell'operazione per farli guadagnare quindi sono infinite le strade di questo business ma l'importante che devi avere gli uomini e le donne giuste in ogni zona in ogni territorio prova a pensarci un attimo siamo partiti mezz'ora fa dove tu avevi un problema di budget avevi un problema di costanza eri quasi demoralizzato quasi quasi volevi mandare tutti a quel paese oppure stavi per iniziare col piede sbagliato oggi abbiamo già nella nostra testa visualizzato come possiamo catturare centinaia di investitori passo passo e come possiamo lavorare per andare a mettere i nostri uomini un po come il come si dice la battaglia navale i nostri uomini sparsi in tutta italia e poi la gratificazione psicologica di dire vabbè io intanto seguo un metodo se non ci provo che cosa può essere successo di così mostruoso rispetto a quello in cui mi trovo adesso ok non è che mi piace ragionare così male che vada però è ovvio che per chi è dall'altra parte dobbiamo trasferire noi della formazione anche un po di serenità non è una questione di vita di morte è una questione di organizzazione immediata e di preparazione come vedi non ti sto parlando di tecniche io dopo è scontato che studierai la tecnica perché quando tu sai di avere gli uomini giusti sparsi in italia un milione di euro lì a disposizione che non ti costano niente io ho un figlio ipotecario aperto da anni con un'ipoteca sul mio ufficio il secondo ufficio in via gli ori 128 rosso c'è un figlio ipotecario che io anche se non lo uso pago lo 0,5 per cento a trimestre su questi soldi perché erano tecniche del passato adesso lo chiuderò visto questo potere non ti costa niente invece lavorare in questa strategia quindi pensaci un attimo investitori di capitale a disposizione tutti e due senza impegno anche se poi ti farò vedere come saranno loro desiderosi di dire oh allora hai trovato qualcosa investitori in zona e poi ti spiegherò anche come possono anche non essere investitori nel prossimo video ecco questo ti fa capire come mai oggi tu vedi immobiliaristi gente che magari fino a ieri erano con te in un gruppo social oggi operano con disinvoltura dice ma come cazzo fanno a fare tutte queste operazioni in un anno cosa fanno non non escono mai di casa non è così non è così hanno lavorato in anticipo in silenzio anni prima non solo sulla tecnica ma sul dopo dice io prima mi devo creare il problema no devo capire poi come risolvere il problema perché avere queste competenze in testa e non poterle sfruttare al massimo ti girano i coglioni dopo che ti sei studiato un mio corso di mpl sono l'unico in italia che li fa in maniera logica per immobiliaristi non per bancari o servizi finanziari che ti fanno vomitare quelle strategie lì dopo sei fatto cinque mesi di formazione con me sugli mpl e ti ho messo in mano il potere e poi tu dici ma non c'ho soldi e poi non trovo posizioni nella mia città capisci che ti girano le balle se invece io ti spiego come lavorare in anticipo e qui è molto semplice rispetto a concludere un mpl e trovare i soldi e trovare quelli che possono lavorare con te con vantaggi reciproci senza impegno tu non vedrai l'ora di dire cazzo adesso vai 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 non vedrai l'ora di superare i puzzle di comporre un puzzle di superare ostacoli micidiali quando ti capita una pratica difficile che ti fa bestemmiare ma non vorrai mica lavorare per due spiccioli devi lavorare a livello continuativo più operazioni più esperienza più investitori che vogliono stare con te perché loro non sono capaci e più altri investitori che ti dicono guarda grazie di avermi passato questa informazione visto che io non ho fatto niente devo andare solo a fare la valutazione e mi paghi pure alla plus valenza ecco nel mastermind la seconda giornata in realtà saranno due giornate perché questo è un argomento molto complesso la seconda giornata e la terza giornata di questo mastermind che faremo a giugno che lo faremo in dieci al quale se ti sei candidato puoi dividere il valore di 7.000 euro in dieci ok poi se lo vuoi fare da solo io e te investi 10 e 7 mila euro e te lo faccio da solo però è meglio darlo a dieci persone così risparmi hai le stesse informazioni se rientri nei primi dieci hai scritto mi voglio candidare al mastermind se raggiungiamo i dieci personaggi poi ci fermiamo e lo facciamo se li superiamo dovrete poi aspettare e candidarvi per il 2023 se avrò voglia di farlo in questi due queste la seconda nella terza giornata di questo mastermind che faremo a giugno 2022 e non verrà più ripetito almeno per quest'anno sicuramente andremo ti insegnerò a catturare l'attenzione di investitori in tutta italia attraverso i social con delle semplici attività veramente banali ovviamente rispetto a quello che devi imparare per la tecnica magari di uno stralcio di un mpl andremo a lavorare in maniera molto molto minuziosa molto precisa perché lavoreremo su due fronti cercheremo l'investitore che opera nella tua nella città che ti interessa valutare una volta che hai trovato la convenzione allora troverai affari anche tu cercherai affari anche in quella città come zona di riserva poi ho trovato il secondo e così via non avrai mai problemi di scarsità ma lavoreremo anche su un altro aspetto metti che non lo troviamo che non ti piace noi andremo a lavorare anche su un aspetto che si chiama opinion leader o broken opinion ok il broker opinion è un professionista che ha dei requisiti non lo sa neanche lui di essere un broker opinion ma racchiude delle figure fondamentali ecco non è proprio la stessa cosa in quanto il broker opinion che ti insegnerò a trovare nella seconda giornata non investe con te cioè non ti dà soldi mentre prima lavoriamo in uno che ti fa la valutazione un tuo socio investitore che tu trovi l'affare lui può darti i soldi oppure prendere un compenso se in caso in cui non avessi soldi ecco il broker opinion non ti non collabora nella tua operazione fa un lavoro professionale quindi ti darà la possibilità di capire determinati cose sarà i tuoi occhi e le tue orecchie nella tua nella città sarà bellissimo anche per te poi andare a fare il rogito notarile andare in aeroplano farti vedere che comunque viaggi e sei pagato perché ricordati che coinvolgendo i tuoi investitori che stai trovando passo passo con le strategie della prima giornata del mastermind gli investitori si dovranno pagare e rimborsare le spese per avere l'hotel viaggio in aeroplano visto e considerato che non hanno fatto una mazza quindi quelle lì saranno messi nei costi dell'operazione come pagare un notaio in poche parole ci sarà il costo anche del dell'investitore principale che è quello che fa tutto il bello e cattivo tempo non so se ti piace quindi nella seconda giornata lavoreremo su questa nuova figura che ti permetterà anche di dire va bene non ho trovato nessuno degno di valore che io voglio fargli valutare i miei affari pago un professionista ti farò vedere anche poi come si può evitare di pagarlo però in questo caso dobbiamo andare molto più sul complicato io sono sempre dell'idea che se i soldi li hai e li fai girare la gente poi ti segue ovvio che se sei un po troppo taccagno alla lunga ti salutano seconda e terza giornata abbiamo messo da parte veramente il 90 per cento di quello che ci serve per poter operare e metterci alla prova perché poi ovviamente la tecnica la devi imparare potrai avere delle difficoltà o non difficoltà ma anche se non avrai difficoltà e sei un mago di quella tecnica se non hai i capitali e se non hai la possibilità di operare anche in altre città sei limitato sei limitato poi qui si tratta di vedere sto parlando con una persona che vuole fare l'operazione cina ogni tre anni senza impegno allora tutte queste cose qui non ti servono se una persona che vuole fare diventare questa un'attività florida e redditizia come quelli che vedi che nel crowd funding dietro il crowd fan ci sono investitori di questo livello prima guadagnavano 30 mila euro all'anno operazione ora fatturano 3 4 5 milioni di euro ho capito perché fattura e ci credo che fatturano si fanno pagare perché presentano le operazioni partecipano alle operazioni stesse non hanno limiti di budget hanno gli uomini che lavorano per loro in italia se tu ci fai caso certi percorsi formativi ok certi percorsi formativi per avere questo tipo di privilegio solo per avere gli affari segnalati ti fanno pagare upgrade da 15 a 25 mila euro e non ti spiegano come si fa a trovare i soldi con gli investimenti in capitale ecco il mio mastermind e sono quegli upgrade soltanto che tu andrai a pagare un centesimo della quota normale perché lo voglio fare online e voglio dare la possibilità a 10 persone di acquisire queste competenze li voglio portare dall'altra parte nel prossimo e ultimo video se lo hai richiesto andiamo a parlare di di team di professionisti che anche qui c'è tanto tanto da imparare perché io conosco centinaia di miei studenti che sanno a memoria come si fa e molti non hanno ancora oggi a distanza di anni un team se fino a ieri con le nicchie di voga della cessione del preliminare la sublocazione anche senza team comunque tarrangiavi oggi con i crediti in sofferenza che sono i protagonisti non vai da nessuna parte ci vediamo nel prossimo video se lo hai richiesto se hai già un team non lo guardare scrivi mastermind mi candido e dopodiché raggiunti i primi 10 che scriveranno mi candido quindi andremo in ordine di scrittura ti darò questo privilegio di accedere a un percorso advanced che da altre parti in italia dopo un seminario di presentazione ti danno la possibilità di candidarti a 15 25 mila euro non è che lo dico io sono i prezzi pubblicati pubblicati tutto qui e io invece voi lo sapete sono veramente veramente generoso su questo aspetto qui perché provengo da una famiglia umile so cosa vuol dire iniziare a fare una carriera per fare soldi e non averne quindi io so cosa vuol dire e me lo ricordo io cerco quelle persone alle gente che ha fame ecco se sei milionario ti prego non accedere a questi benefici lascia il posto agli altri perché puoi spendere molto di più piuttosto se sei milionario chiedilo one to one te lo facciamo io e te ti investi la quota intera non un decimo prossimo video in arrivo